C'è l'abbattimento della tassa rifiuti tra le misure varate dal comune di Pordenone per aiutare le attività commerciali che hanno dovuto rimanere chiuse durante l'emergenza virus. Il provvedimento è finanziato con oltre un milione di euro, risorse che permettono di diminuire la Tari a negozi locali di quasi il 50%. A spiegare come funziona la riduzione automatica è il sindaco Alessandro Ciriani. Noi abbiamo deciso di azzerare il pagamento della Tari per tutte le attività, negozi, attività commerciali, pubblici esercizi che sono rimasti chiusi ma non solamente nel periodo del lockdown ma per tutto l'anno. Noi possiamo però azzerare solamente la parte di competenza del comune dato che c'è una parte fissa e una parte variabile. La parte fissa che dipende dallo Stato purtroppo non la possiamo azzerare. Quindi a settembre la Tari 2020 sarà pari a zero perché è la parte nostra dopodiché a marzo 2021 la parte dello Stato invece dovrà essere pagata ma credo che sia un segnale importante di vicinanza da parte del comune. In questi anni l'amministrazione comunale, sottolinea il sindaco, ha comunque progressivamente diminuito la Tari fino a portarla tra le più basse d'Italia. Voglio darvi un dato, la Tari pro capite del Friuli Venezia Giulia batte a 143 euro, la Tari pro capite nazionale batte a 223 euro, la Tari pro capite di Pordenone era di 129 euro. E infatti anche questo grafico che è abbastanza chiaro fa notare come progressivamente si sia diminuito il peso di questo tributo sui cittadini. Grazie. Grazie.